Tu sei mafioso, Jin. Ce l'hai nel sangue. Le persone come noi non dovrebbero nemmeno esistere in questo mondo. Che parole patetiche, Jin Kazama. È tutto quello che riesci a raccogliere dal sangue che ti ho dato. Forse non condividiamo il sangue, ma ci siamo scelti come fratelli. Creiamo la nostra famiglia, una famiglia che è più forte di qualsiasi linea di sangue. Jin, le tue parole possono essere piene di dubbi, ma il mio cuore... La linea di sangue Mishima ti lega. Ci sono conseguenze per chi volta le spalle alla nostra famiglia. Kazuya, non mi lasci altra scelta. Ripuliremo questo mondo dal male e dalla corruzione. Ascolta il tuo cuore, non le voci di chi cerca di controllarti. Insieme, possiamo forgiare... È giunto il momento di liberarsi dal ciclo di corruzione che affligge la nostra famiglia da generazioni. Mi rifiuto di lasciare che l'oscurità CI consumi ancora. Gli affari di famiglia finiscono qui. Gli affari di famiglia finiscono qui.